Dal 26 gli imprenditori potranno scegliere su Borsa Lavoro il curriculum dei giovani abruzzesi ai quali proporre contratti a tempo indeterminato e tirocini. E quanto prevede il bando 30+, rivolto ai giovani disoccupati e illustrato dall'assessore alle politiche del lavoro Andrea Gerosolimo, l'imprenditore può ottenere un contributo fino a 9.000 euro. In un mese i giovani che hanno registrato il proprio curriculum su Borsa Lavoro sono 1.400.